Dopo decenni di abbandono e dopo svariate aste andate deserte, sta per partire il recupero di una porzione dell'ex manicomio San Benedetto, perlomeno di quella di competenza comunale che insiste soprattutto su corso 11 settembre e le intersezioni con Via Belvedere. La società Edilco SRL, con sede legale a Matera, si è infatti aggiudicata alla gara d'appalto per circa 10 milioni e 200 mila euro, fondi che arrivano dal PNRR nell'ambito del Piano Pinqua, vale a dire il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. I lavori interesseranno circa 6 mila metri quadrati che il Comune destinerà per una sezione ad appartamenti per categorie protette e ambulatori e per un'altra ad uffici da realizzare in permuta con AST. Azienda Sanitare, che con Comune e Regione Marche, era il terzo soggetto al tavolo del progetto di rilancio presentato a marzo 2021. Un accordo in cui il Comune approvò una variante urbanistica che separò il complesso in quattro aree di differente destinazione d'uso, da residenziale pubblico a residenziale privato, dall'allora competenza ASUR a terziario e servizi. Ora il progetto di competenza comunale sta per partire e comprende anche il giardino interno. Il cronoprogramma è di avviare il cantiere a inizio 2025 per una corsa contro il tempo che intende concludere i lavori entro marzo 2026 come impone il PNRR per la rendicontazione dei fondi spesi. Ancora ferma la progettualità della Regione, chiamata ad un recupero degli spazi fra Via Belvedere e Via Mammolabella con destinazione di ambulatori sanitari.